Oltre 120 famiglie di pescatori fra Rimini e Ravenna rischiano di ritrovarsi in seria difficoltà se non verrà confermato il via libera alla pesca in Adriatico per le vongole con una misura minima a 22 mm. Lo denuncia a Conf Cooperative spiegando che è quello che accadrà nel caso in cui il Parlamento europeo, su richiesta di alcuni eurodeputati spagnoli, non dovesse prorogare fino a tutto il 2020 la deroga già concessa all'Italia dalla Commissione UE alla normativa che vieta la pesca delle vongole sotto i 25 mm. Se l'Europarlamento dovesse dare ragione agli spagnoli e il limite minimo per le vongole pescate in Adriatico tornasse a 25 mm, nella rivera romagnola, spiega Badis Paesanti di Conf Cooperative, 54 barche per la pesca di vongole, 37 nella marineria di Rimini e 17 in quella di Ravenna, dovranno essere tirate definitivamente in secca con più di 120 pescatori che si troveranno senza lavoro per provvedere alle proprie famiglie. Si discute quindi di 3 mm, da 22 a 25, che però per i pescatori romagnoli sono di importanza vitale. La vongola Venus Gallina, prosegue Paesanti, che vive in particolare nei fondali sabbiosi del tratto di mare compreso fra le province di Ravenna e Rimini ed è comunemente nota come poverazza, in queste zone non riesce quasi mai a raggiungere la misura minima prevista dalla UE. Negli anni abbiamo fatto diversi tentativi di favorirne lo sviluppo, conclude il vicepresidente di Conf Cooperative, incluso prevedere lunghi periodi di fermo pesca, ma i risultati sono stati inequivocabili. A differenza delle vongole veraci, la poverazza, una volta raggiunti i 22 mm circa, comincia lentamente a decadere e per lo più muore prima di conquistare quei fattidici 3 mm che mancano per la misura richiesta dall'Unione Europea.